Il Comune di Sanza invita gli studenti a partecipare alla prima edizione della Summer School, il patrimonio culturale come eredità e risorsa per lo sviluppo della comunità. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vittorio Esposito, nell'ambito del progetto Sanza-Borgo dell'Accoglienza, ha infatti sottoscritto un accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Salerno e la Regione Campania, finalizzato alla realizzazione di un percorso formativo di figure specifiche per l'azione di valorizzazione turistico-culturale del borgo. Nell'ambito dell'accordo, dunque, il Dipartimento di Scienza del Patrimonio Culturale dell'Università di Salerno bandisce per l'anno accademico 2023-2024 una selezione per titoli e colloquio per 15 borse di studio per attività di ricerca dell'importo di 1000 euro, destinate a laureati triennali per la partecipazione alla prima edizione di Sanza Summer School. Sul tema, il patrimonio culturale come eredità e risorsa per lo sviluppo dei territori e delle comunità, che si svolgerà a Sanza dall'1 al 14 settembre. Il corso, si legge nel bando, si costituisce di lezioni, visite didattiche ai siti e alle istituzioni culturali del territorio, laboratori e workshop sui temi della digitalizzazione, innovazione e creatività per il patrimonio culturale, materiale e immateriale e lo sviluppo sostenibile dei territori e le comunità. Possono partecipare alla selezione residenti in campagna, laureati triennali in tutte le classi di laurea. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina PICA entro la mezzanotte del 2 luglio prossimo. Il link per consultare il bando con tutte le informazioni è raggiungibile dalla pagina Facebook ufficiale del Comune di Sanza.